Con Lorenzo Milani, in stantuffo sulla sinistra, a destra c'era Pizzuto, i due under oggi sono stati tra i migliori, un Groseto sicuramente ottimo sotto tutti i punti di vista. Sì, abbiamo fatto una buonissima gara, il mister ha voluto tenere proprio tre dei quattro difensori che sono partiti titolari, quindi penso che abbiamo fatto un buonissimo lavoro dietro. Da San Giovanni domenica mi erano arrivati complimenti da parte dei colleghi, dicevano che il Groseto aveva fatto una grossa prestazione, questa sera credo che si sia ripetuto, un Groseto che ha qualità, trame di gioco e fluidità proprio di gioco, insomma è un piacere per gli occhi. Sì, è frutto del lavoro fatto durante la settimana con il mister, poi alla fine in campo diamo il 100% e cerchiamo di fare il meglio di noi. A inizio stagione, a inizio preparazione, quando ti ho intervistato, avevi detto quali erano i tuoi obiettivi, confermi insomma di cercare di ritagliarti un ruolo in questo Groseto perché insomma ci sarà bisogno, il Groseto può contare su di te direi. Certo, certo, io darò sempre il massimo e farò di tutto per portare a livelli alti questa maglia. Bene, così in bocca al lupo. Grazie.